Musica Pubblico delle grandi occasioni per l'arrivo di Gino Strada al Festival dell'Economia di Trento. Teatro sociale tutto esaurito e persone in fila all'esterno per ascoltare le parole del fondatore di Emergency. In tema con il filo rosso del Festival, Gino Strada ha la sua ricetta per arrivare ad una salute uguale per tutti. Eliminare gli sprechi, rendere efficiente ed efficace la sanità pubblica, togliere gli interessi economici. Costruendo un sistema sanitario che sia uguale, non quello schifo che è adesso. Pieno di profitto, di ruberie, di cose stupide, inutili. La sanità è un bene fondamentale. Cosa ci vuole a fare una sanità di qualità pubblica, gratuita, per tutti? L'Italia intera potrebbe essere eccellenza nella sanità pubblica. Le isole felici, come ad esempio la provincia di Trento, sono da esempio a livello nazionale. L'Italia bisogna cominciare a rendere le cure gratuite per tutti, anche per quegli 11 milioni che non si curano più come dovrebbero, dice il Censis. Però sono 11 milioni di fantasmi, non compaiono mai. E poi badare alla qualità, perché in molti posti, nelle strutture italiane, la qualità è indecente. Devo dire, non sto parlando di strutture pubbliche, perché io ho visto delle cose nelle cosiddette centri d'eccellenza privati che io li chiuderei entro 24 ore. Davanti al pubblico del teatro sociale, Gino Strada ha ripercorso le tappe della sua lunga attività al fronte, come medico di guerra, in tutte le zone calde del pianeta. Importante è sensibilizzare e informare, e progetti come il Festival dell'Economia sono fondamentali per non far dimenticare le priorità a livello mondiale. Mi pare interessante, mi pare bello, poi lo saprò più tardi stasera. Grazie per la visione!